Allora, stiamo vedendo che stanno cominciando ad organizzarsi i giocatori con Saidonia e Giulia che si stanno mettendo su un lato e Sabaku e Chireni sa l'altro Questo dovrebbe essere in teoria il più difficile Assolutamente lo è Guarda Giulie, prendi come sta ragionando sul vauto manuale Questo posso soltanto dire che non sa No, oppure sa troppo Dai, almeno Rosalind... Sì, perché se uno li guardi una fluttua e l'altra cammina invece il problema è sempre lo stesso sono comunque due principi con i capelli biondi Sì, Rosalind lo provo anche io qui È un treno Una composizione abbastanza... Todd, Bowser, Reals, Blumbo Ah, guarda come... no, schippano pure le cutscene In realtà hanno schippato No! E si comincia, partono subito gli aggressivi Allora, c'è un bel po' di input lag, eh Ricordiamo solo un round a quattro minuti Basta! No! Uh, andate nel residente al mutuo non è proprio la cosa intelligente Il tiro... Oh, che parata! Fermate queste palle pazze! Ok Qua è mai la Toad Toad è una sega Ok Guardalo! Questa è una delle cose che... Perché sul calcio normale tu sei abituato Vai un po' redente al bordo campo Così che puoi fare un po' di dreaming Qua non puoi Perché letteralmente ti spingono contro un muro elettrico E non è proprio il massimo il divertimento Bellissimo Fermatelo! Madonna! No! Tieni la palla, tieni la palla Non fargliela prendere per nessuna ragione Piuttosto passiamo Questa è la magia di Mario Stryker Siete delle cose fatti Ok, buono L'orba è stato preso da Timmy Seidonia Purtroppo però è già finito Terminato Ricordiamo l'effetto dura circa 15 secondi C'è anche... Madonna! Madonna no! Madonna no! 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 Ho direzionato pure le palle Cioè Basta Deve entrare sta palla di merda Gesù! Vedete che abbiamo imparato a giocare? Pensavate di vincere facile Sardonia? Non si vince facile contro questo gruppo Non lo so neanche io Penso che siano un po' indecisi sulla direzione da prendere Perché è sempre quella difficoltà Contropiede che non so se esiste Dio! Oh no Cazzo! Oh! Attenzione! Che cos'era quello? E ora 1.36 Difenderà o proverà ad attaccare ancora? Eh beh Prova ad attaccare Prova ad attaccare Conoscendo Fra No! No! Estordito! Ma la resta lì! No! Come ho fatto a sbagliare il tiro da lì! Eccolo là Li per tiro arriva Carre! Oh! No! C'è il tacco No! Dovevi spammare il tasto Eh! L'ho fatto! L'ho fatto! Se riesci proprio Perché c'è Todd Todd! Attenzione! No! Non era di prima Purtroppo non era di prima Trova per lì per tiro No! Interrompi E uno No! Perché c'è Mario Subito intercettarlo Interrotto interrotto Suca! 5 4 3 Oddio L'ultimo momento Sta per succedere Non è successo No! Era l'ultima chance Si ma Hai scaduto il tempo Si però combattutissima Cazzo Combattutissima Noi pensavamo 99 a 95 15 a 10 No 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 Qua invece si sono 1 a 0 Semplice e semplice Quindi Primo game Finisce rapido In fretta E poco doloroso Mi aspettavo molti più gol Dall'esperienza di Cydonia Loro hanno lavorato Sulla sinergia Noi invece Questo è il nostro Primo game assieme Grazie E loro avranno sicuramente Giocato insieme Ci rivedremo in finale Il nostro canale Grazie a tutti.